Buongiorno! Bene, devo ancora un po' svegliarmi. Mezz'oretta e ci siamo. Ciao! Trovi un pallone. Perché? Vuoi giocare al pallone? Che ruolo giochi? In panchina! Non ho chiuso! Allora... Ci sono fanno le unità. Sì, perché fai... un giro... e poi... uno... due... Ma da dove? Difficilmente era meglio fare un Super 2000 di quello che abbiamo fatto. Questa gara è una gara particolare, diciamo, non è un rally, non è un rally normale. Si gira in pista con delle chicane, quindi l'assetto, normalmente, si tiene un assetto molto più basso, una macchina un po' più rigida, un po' più precisa rispetto a tutte le altre gare. Scusate! Questi sono i numero uno, i nostri tifosi numero uno! No, voi! Ciao! Grande! Mi fai una foto, Baffo? Ottimo! Buongiorno! Ciao! Autografi di prima mattina? Sì! Sono cambiali, sono! Un небi di più! Buongiorno! Buongiorno! Tutti! Buongiorno! Tutti! Buongiorno! Grazie a tutti.